e qua signori abbiamo appena finito il live di rana nera e non è stato un live noioso mettiamola sotto questo punto di vista una delle mie ultimissime live poi mi troverete come già specificato nel webinar solo all'interno di rana nera quindi ultimo live così giusto per rispondere magari a qualche vostra domanda io non volevo neanche fare live cichinelli mi fa vai live se ci hanno delle domande così almeno puoi rispondere bellissimo webinar grande marco spero vi sia piaciuto ragazzi abbiamo veramente creato stavo svenendo grande abbiamo buttato fuori abbiamo creato un qualcosa di assurdo c'è stato un lavoro pazzesco dietro e rana nera sia fenomeno big grandi ragazzi se state già divorando cani e porci entreranno a 347 se 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 abbiamo abbiamo fatto una cosa bella ok molto ricca questa membership bellissimo web a grandi ragazzi grazie a presenza sei un pazzo per quel prezzo lo so lo so allora spieghiamo questa cosa allora 347 euro per chi guarda ci sono 16 ore di contenuti tra cui due ore di intervista nuova con dan kennedy con dei contenuti pazzeschi l'intervista con alfio bardolla l'intervista con john de martini che per la prima volta ha rivelato a noi il suo patrimonio una persona che fa due milioni di dollari l'anno passivi ok vabbè guardate l'intervista ok entrati rana nera rana nera punto com dovrebbe essere l'indirizzo scusate fatemene accertare perché se do rana nera punto com team mettete si ok rana nera punto com abbiamo dei bonus e dei contenuti inspiegabili abbiamo lo spoiler box ogni mese riceverete allora riorganizziamo le idee perché veramente c'è un sacco di roba ogni mese riceverete le lezioni private col papi sono delle mie lezioni private sono due ore di contenuto di cose dietro le quinte di cose che non ho mai rivelato di consulenze private di investimenti di strategie di cose che cura dietro le quinte di cose che faranno esplodere la vostra azienda abbiamo la lezione di copy injection fatta da simone vigna sul copywriting sarà una lezione mensile ne abbiamo un'altra su facebook adwords tutte le fonti di traffico curata da simone caloni avete lo spoiler box ogni mese vi facciamo vedere mezz'ora di contenuto di altri corsi anche del protocollo kennedy avete abbiamo un live q a settimana che non sarà su facebook quindi useremo un software che è perfettamente integrato con katanga ma dopo il 10 settembre capi al prezzo non si avranno le tre interviste sono a e c'è anche il dietro le quinte del tta quindi come il reparto vendite della big look international si è preparato per vendere queste offerte per crearla chi entra dopo il 10 settembre potrà entrare a 347 euro ma si perde il bon ragazzi dan kennedy ha rilasciato un'intervista di nuovo a me ok ed è la prima intervista che rilascia dopo la sua malattia è cieco da un occhio non ci vede dall'altro ha dato tanto di quel valore che è assurdo ovviamente l'abbiamo dovuta fare da remoto quindi c'è stato un cameraman che è andato da dan kennedy a macedonia oaio ha impostato tutto sono 16 ore di contenuti tra contenuto e bonus ogni mese verranno erogati circa 10 ore di contenuto per 347 euro al mese quindi idea per tutti in questo primo mese accaparratevi quello che è fondamentalmente è un corso strepitoso per 347 euro al mese entrate anche per chi non ci conosce così entrate guardate ragazzi contenuti non lasciate che ve li dicano gli altri voi entrate guardate la piattaforma guardate il supporto se siete persone serie che vogliono imparare che hanno fame di formazione capite che non si possono prendere un corso e stare ad aspettare ma c'è bisogno di una formazione continua semplicemente vi si rinnova automaticamente per chi è spaventato da questa cosa sappiate che abbiamo fatto mettere al programmatore tutto un sistema per cui c'è un semplicissimo tasto lo schiacciate vi disabbona ok quindi non c'è il pericolo del rebilla automatico no c'è un tasto grosso così sono stato chiaro su questo ragazzi mettetelo grosso come una cancella abbonamento non c'ho voglia di sentirne ok importante quando uscite non potete più rientrare ma quando uscite il contenuto per il quale avete pagato mettiamo che siete stati membri 12 mesi è rimane vostro non perdete il contenuto quando uscite non so se c'è ci stiamo spiegando bonus bimestrali ragazzi allora io sto guardando i nomi di chi sta entrando come al solito non posso dire niente stanno arrivando tutti bene che abbiate capito il valore di questa offerta c'è bisogno di formarsi lasciate perdere i metodi di guadagno le cazzate qua c'è bisogno di roba seria c'è anche un focus sugli investimenti su cosa investire ne ha parlato anche dan kennedy quanto bisogna avere di patrimonio in cosa investe in cosa investe john de martini le abitudini le strategie cosa vendere ok per il secondo mese qual è il menu vi verrà svelato quando entrate c'è un menu molto ghiotto anche per il secondo mese le sorprese voi entrate fidatevi ok ok c'è una sorta di invasione a una cosa due persone vabbè il nome lo posso dire immagino che uno diciamo che si chiama mattia e l'altra si chiama carlotta guardo stripe non dovete comprare tre volte una è sufficiente se voi volete star membri tre mesi ma pagate mensilmente non ci date subito ok quindi se avete fatto un errore capita se avete così tanta foga di comprare che cliccate tre volte si vede contattate l'ufficio che vi eroghiamo i due rimborsi perché ho visto non lo so poi cosa abbiate magari l'avete preso per tre persone siete corretti non lo so però guardo stripe adesso ce l'ho sott'occhio il numero delle notifiche non ve lo dico e risultano tre pagamenti quindi carlotta e mattia e se potete cioè non abbiamo notato questa cosa ovviamente avete pagato tre volte due di entrare in borsa ok ci sto per chiarire mi interessa lezione di copy injection ma da chi studia vigna vigna si è formato dai migliori e cura tutto il copy della big luca international che direi che funziona gli script di questo web sono stati curati da lui la nuova 6 page dimenticate tutte le mail in post si forma costantemente dai migliori lezioni colpati registrati big luca on air live settimanali con domande sì se in 500 pagano mensilmente ti fai 170k ogni mese e saranno un po di più l'intervista con dan è sottotitolata assolutamente sì così come l'intervista con john de martini avrete tanto di quel contenuto che è osceno ok quindi è veramente pazzesco siamo molto orgogliosi volevo ringraziare ufficialmente il mio team siete fantastici non sono guardate solo la 6 page voi pensate che sia facile fare quella roba guardate il video senza un team di gente che c'ha due palle così ragazzi queste robe qua non saltano fuori non vengono mantenute ok c'è dietro un'azienda ragazzi la big luca international non sono solo piscine direi che la cosa è stata già perfettamente chiarita da tutti i vari record europei fisici e non fisici che abbiamo ebbene a volte però a ricordarcelo quindi grazie ragazzi peraltro per chi entra al primo mese ha anche dei punti andatevi a leggere l'offerta perché assurda la cosa è 347 16 ore si compre fine se volete stare membri e lo vorrete stare perché avete bisogno ripeto di supporto continuo supporto continuo le lezioni si pagano ragazzi ho capito che uno le vorrebbe gratis però non non è non è quella roba lì quindi ma dopo il 10 settembre cambia il prezzo attento e visto risposto ciao zamboni no non faccio più le live dove rilascio informazioni gratis big si potrà mai comprare il tuo libro singolarmente e non lo so vai da facebook sì no ho fatto sul q a post webinar ma hanno imposto di farlo ho 19 anni ti seguo da quando eri in piscina penso che questa sia l'ultima live non posso entrare nella membership perché non ho tanti soldi per ora li sto comunque ti voglio ringraziare per il mindset che mi hai installato sei il formatore che mi ha dato di più di tutti a livello di mindset ho lasciato le persone tossiche mi sono fatto il culo sono certo che sto per avere i primi risultati grazie davvero sono certo che un giorno avrò la possibilità di conoscerti grazie mille figurati mattia grandissimo on air settimanale c'è una schedulazione ok tu potrai accedere direttamente da katanga ti registrerai al software che ti permette di venire live e potete fare domande live vi faccio parlare con la webcam che non è un live su facebook una roba seria quindi ripeto c'è un livello di serietà piuttosto alto sono informazioni ad altissimo impatto ti seguo da quando facevi la live sdraiato soltanto bei tempi quelli sì 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 vabbè ve la state mangiando viva insomma basta vedere le notifiche di stripe i venditori si stanno divertendo i miei complimenti sinceri grande il passaggio da vendita ricavo ripetitivo ciao a b che sto per partire online con il mio primo business sono a 22 anni mi piacerebbe entrare nella membri ci potrei anche se sono alla mia prima esperienza assolutamente sì chiara certo che si troverai delle informazioni sia per base intendo che ti fanno cominciare ad avere struttura sia mentale che le vedrai cioè basta entrare le vedi quindi non ti sto dicendo una cazzata cioè sono sotto già gli occhi di 100 persone se non di più che informazioni strategiche avanzate una cosa bella è che anche se smetti di pagare ti rimangono le live le lezioni quindi poi se tra otto mesi dici aspetta che allora se esci poi devi passare a quella da 99 ma comunque continua ad avere contenuto lo puoi studiare c'è un coach puoi fare le domande nelle live che faranno loro la cosa ti verrà spiegata ti spiegheranno un sacco i miei coach sono fantastici quindi anche se siete all'inizio ragazzi se siete all'inizio c'è un problema io ve lo sto dicendo dovete studiare l'online marketing il marketing i soldi non i metodi di guadagno non le cazzate perché più tempo buttate a studiare cose che non esistono e è come dire più tardi investite perché cercate di tradare le cripto a leva o gli scam queste cose qua più tardi costruite patrimonio perché eravate troppo impegnati a fare le cose che non esistono la storia dei 18k è una bomba davvero è possibile condividere la membership in due io e mio fratello gradirei ne prendeste una testa andrea anche per per voi è meglio perché avete l'accesso unico e non ci confondiamo con i nomi e mi sembra anche giusto così anche come educazione mentale quindi meglio di vogliamo senza ci sono molte informazioni sul main se ragazzi il primo mese è una bomba di mindset entrate potete smentirmi l'intervista con john de martini mi ammazza sono informazioni a cui voi non siete abituati anche chi cerca le novità cose che non avete mai sentito sfido chiunque a entrare guardare i contenuti avete presente le parti sul main se di online marketing permette catti 2.0 il casino che hanno fatto il bordello che ha fatto quel corso ecco avrete delle informazioni di mindset perfettamente integrabili e anche viste da un punto di vista avanzato è una membership avanzata nel senso che ci sono anche molte informazioni avanzate sono informazioni usabili da chi fa posso leggere qualche nome gente che fa 100 200 mila euro netto sta entrando ok quindi le interviste vengono rilasciate pian piano oppure appena entro le ho tutte c'è mi sembra che tu le abbia il 10 tra qualche giorno qualcosa del genere come le hai le hai tutte molto prima del rinno cioè le hai tutte diciamo subito tra qualche giorno mi sembra che alcune ci sono già altre tipo quella di dan la stanno sottotitolando arriva tra qualche giorno per dirti però ce le hai subito concreto non devi aspettare sei mesi non è quella roba una membership per rete vendita 80 venditori dirette 400 venditori non ho capito ma non ho liquidità si può entrare anche dopo vero si si può entrare anche dopo ma perdete tutti i bonus e entrando questo mese avete anche un codice coupon entro il 30 settembre potete avere un un ulteriore sconto su altri percorsi formativi della big group international quindi vi consiglio di di accaparrarvi queste queste cose qua ok altre domandine quindi ragazzi fino al 10 settembre 16 ore di contenuto e poi una decina di ore di contenuti ogni mese esclusive non banali professionali ed è l'unico modo per rimanere in contatto con me quindi farò delle live con i membri exclusive una volta alla settimana non vedete che non sto facendo adesso vabbè q a dopo il webinar ci può stare non sarò assolutamente c'è stripe che si sta divertendo ma alla fine cosa aveva da disapprovare cichine è possibile aderire per chi ha una rete vendita sia diretta che indiretta certo sì va bene anche per chi parte da zero ragazzi assolutamente sì così cominciate già con le informazioni giuste alcune informazioni saranno avanzate magari non le potete applicare subito le potrete applicare dopo ma ci sono live tecniche ok facebook ads come farli dove cliccare e il copy e come fare come fare per un opt in poi la sales e colleghiamo le cose quindi ci sono sia le strategie che le cose di più alto di più alta teoria se entro e voglio acquistare con i 347 punti guerra psicologica può essere inutile anche il business dell'e commerce ernesto sì teniamoci certe cose private per chi ha visto il webinar quindi nel webinar ho detto una certa cosa a buon intenditor poche parole sì o dive ludovica o diversi non so se sono online ho diversi studenti che fanno e vendono musica sia attraverso coaching che monetizzazione modello membership e anche artisti che vendono opere d'arte se ti può interessare c'è qualcuno online potete paresarvi rananera.com programmare fare con te una formazione continua per una rete vendita se vuoi lavorare con me tutto parte da una consulenza strategica di 3500 euro l'ora contatta l'ufficio io ho degli studenti privati che mi pagano un sacco di soldi cioè se vuoi un piano strategico personalizzato se ne può parlare ma bisogna vedere se ci sono i presupposti perché tu possa lavorare con me congratulazioni per il tuo percorso e chapeau grande diego si sommerà nei punti di katanga mentre in cosa consiste il bonus per gli altri corsi li ho già quasi tutti comunque si parla di contenuti digitali se avete delle domande chiamate l'ottocento 303 666 e parlate con il mio team che è proprio in questo piuttosto occupato a come sempre durante i lanci venditori tendono a essere in manica larga non che la cosa mi piaccia molto però decidono un po loro quindi contattatevi niente niente ragazzi rana nera le rane sono nere c'è chi va in vacanza chi lavora signore date a vedere la 6 il video e perché hai presentato i tuoi consulenti nel webinar inclusa qualche tipo di assistenza personale perché le lezioni di copy injection e di roy update saranno curate dai miei coach ecco i miei coach ragazzi non sono persone improvvisate ve ne accorgerete a parte che qualcuno di voi già li conosce per dire chi ha fatto consulenza con caloni personaggi anche conosciuti sono le persone insieme a cicchinelli e ad altri che non vedete che gestiscono la big look international e tutto quello che ne deriva che vi ricordo che il nostro business è far fare i soldi agli altri cosa ti ha detto dan di questa iniziativa ma chissà che tu un giorno non lo scopra voglio dire non ho potuto partecipare a guerra a caso di un imprevisto ci sarebbe la possibilità di vederlo su catanga e alice rana nera punto com membership esclusiva 347 al mese il primo mese 16 ore di lezione tra cui una nuova intervista di danken di sottotitolata l'intervista john de martini l'intervista ad alfio bardolla è un training segreto del tta che sommato al contenuto che c'è sono 16 ore per 346 non devi capire altro quindi di base si possono fare domande via forma e se apprezzate vengono risposte nella live ancora meglio di così pensare che ero due passi da te a milano e neanche ti conoscevo ed ora ti seguo da mesi ero a due passi da te a milano non so quando i tuoi webinar sono sempre effetto wow se sì i miei webinar sono non solo effetto wow ma non sono 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 eventi cioè non disattendiamo le promesse andiamo in over delivery ecco in over delivery ragazzi se non siete seri non centrate cioè l'offerta è pazzesca va bene però c'è entrate state dentro si lavora bisogna essere completamente formati quindi vi consiglio di è un processo formativo che vi cambierà è una cosa che non si può fare se non con una membership quindi ripeto il prezzo cioè per quello che c'è dentro è un insulto all'intelligenza ma siccome ci entreranno migliaia di persone si può fare un prezzo piccolo e possiamo sfornare contenuti avere il polso della situazione e darvi un'assistenza di un altro profilo già quella che c'è direi che considerando fatto che rispondiamo sempre telefoni le mail vengono in base in minuti ma non erano in migliaia di imprenditori a seguire la diretta infatti eravamo in più di 2000 certo è parzante il commento che hai fatto il tuo corso ventecati 2.0 mi ha letteralmente cambiato il modo di vivere la parte del mindset fuori dal mondo a 21 anni grazie big sei grande ernesto le lezioni di contenuto di mindset che troverai nella membership ti porterà ancora un altro livello quindi se ti interessa l'argomento credimi contento che ti sia stato l'utile il corso online marketing per mentecati 2.0 bravissimo a quando il corso come le t-shirt sono scritte speculari portando soldi a chi rende esatto sì sì superati i 2000 partecipanti calcolate che è stato un webinar promosso ad agosto dicendo che le rane sono nere quindi nel senso provate tra un po' ve lo dico giusto per correttezza perché tra un po' partiranno i tre checchi arancioni gli scogliattoli viola perché le persone hanno sempre molta fantasia c'è modo di vederlo marco rananera.com è tutto spiegato nella sales page andatevi a vedere la sales page a milano la presentazione del libro dello zio monti sono il ragazzo che ha scolpito il melone con il logo la mia amica coach mi ha detto quello e big lucca ne parlano tutti del mio ambiente non ero la presentazione del libro di monti giuro cioè non ci sono andato ti posso assicurare che non ero io probabilmente mi avete confuso con qualcun altro pagamento con carta prepagata va bene sì sì paga con quello che vuoi grande big grande carmine poi ci vediamo dove sai tu grande big ho 17 anni seguo i tuoi video appena avrò i primi guadagni faccio il venditore compro subito un tocco grande ma l'hai trovata la rana in giardino alla fine sì 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 big sei grande però davvero vogliamo senza e ho capito che volete il libro prima o poi lo metteremo in vendita adesso un po' non c'è adesso adesso c'è rana nera ragazzi se volete far la grana e capire veramente come funzionano certe cose di business ragazzi cioè veramente come si molestate in una magari una membership fatta da un milionario che crea e ha creato altri milionari alcuni che conoscete altri no cioè come idea c'è strike però quanti ne hai venduti già è un pochino un pochino diciamo che non andiamo non stiamo andando male non ci stiamo lamentando differenza di contenuti tra questo e lucro suburbano lucro suburbano è un mastermind a lucro suburbano si fanno gli hot seat e si fa mastermind di altissimo profilo tu ti alzi ed esponi il tuo problema per 30 40 minuti un'ora gli altri ti bombardano di idee contenuti vedi i numeri degli altri le esperienze diciamo appena fatto questo allora non fa cioè è soprattutto lucro suburbano il mastermind che sarà due o tre ottobre a milano a un livello che è pazzesco abbiamo un plurideca milionario un multi e praticamente tutti sono milionari quanto meno generano parlo di milionari in patrimonio quanto meno generano tutti almeno un milione all'anno è un evento di altissimo profilo è un evento fisico interagisci con me e sei in una stanza con altre persone di altissimo profilo valore immenso questa è una membership digitale con del conto cioè sono due concetti simili ma diversi se capisci quello che sto dicendo big ma all'inizio del tuo percorso ti aspettavi di arrivare dove sei ora eh ma non sono devo arrivare ancora più in alto c'è un errore nella 6 page la matricola a 6 ore di live come il full team correggere la 6 page please per chi non ha un business ti aiuterà la membership a costruirne uno perché i problemi che tu hai all'inizio possono non essere dissimili grande Rudy come va la situazione da degli step che tu hai anche quando hai già un business sono concetti che mi servirebbero delle ore per spiegarli ok per chi non ha un business ragazzi voi non dovete trovare un business lo so che non lo capite però ascoltate big luca ok voi dovete capire come a chi vendere come vendere cosa bene ascoltate quello che ha da dire dan che per chi diciamo ma cosa vendo ma cosa vendo te lo spiega direttamente dan kennedy ok e dovete capire come impostare un qualcosa di duraturo ed è una cosa che parte dalle conoscenze ok cioè prima di investire in borsa tu devi studiare la borsa non c'è il trucco per farlo più velocemente quindi cominciare a studiare subito l'online marketing dalla massima autorità europea mondiale interplanetaria no a parte gli scherzi è una cosa che va bene perché se fai altro e comincia a usare dei trucchetti delle cose dopo due anni non è ancora concluso un case sei lì che dici minchia è crollato tutto no ma perché facevo l'e-commerce poi mi hanno bannato e tenti sempre di trovare dei trucchetti bisogna costruire un business e ranna nera ti insegnerà a costruirlo e anche gli altri corsi secondo te come primo lavoro più per imparare che per guadagnare 17 anni va bene il venditore certo certo che sì fare per esempio venditore telefonico assolutamente sì va bene signori io vi saluto vi ringrazio ci vediamo all'interno di ranna nera nelle live divoratevi il contenuto entrate ecco per chi ne abbiamo veramente pochi a 99 è assurdo ragazzi cioè quella di 99 va bene per chi quando magari non ci saranno i bonus per chi non si fii non lo so questo primo mese con i bonus che ci sono cioè è un corso di 16 ore con Duncan cioè non so se mi spiego è a 347 prendete il corso da 347 entrate guardate se siete seri mantenete la membership attiva continuate a studiare non fate i pirlottoli dunque per non far disdire l'abbonamento ora dovrei dare ogni mese regalare sempre più contenuto no regalare no un poker online come lo vedi e lo vedo bene va bene ragazzi quindi vi saluto non fate i barboni per due lire formatevi urca no lì dietro cioè per altri domani ho anche un'altra consulenza privata effettivamente il prezzo è davvero basso per i contenuti che dai se è così basso perché è una membership cioè se no ripeto già quando lanciamo se voi sapete che noi non vendiamo niente sotto i mille 1200 euro questa è una membership perché è mensile quindi poi le persone rinnoveranno staranno dentro ma c'è già quando lanciamo a 1200 facciamo risultati assurdi corsi che potete prendere cioè varrebbero 10.000 voglio dire per un cinquantenne come me che ha perso il lavoro per i covi questo abbonamento può essere utile assolutamente sì raffaele così impari come fare potenzialmente un business online come moneti con le conoscenze che ti possono portare a monetizzare velocemente non c'è una promessa di guadagno perché non siamo a far ripirla però è tipo dare ti darà una botta di mindset è una botta di competenze di conoscenze per monetizzare sicuramente utilissima ci sono anche delle interviste che parlano del covi della situazione dando le nuove prospettive quindi sì ma dopo un anno di fedeltà ci dà il protocollo kennedy no il protocollo kennedy si compra a parte ed è questo un anno di fedeltà una botta in capa va bene signori parlato anche troppo rananera.com prendete la roba fino al 10 settembre ok signori non lasciate di scappare i bonus il training segreto del tta guardate il ragionamento di un'azienda multimilionaria per fare l'offerta e l'intervista con dan kennedy ragazzi non ce l'ha nessuno den non rilascia interviste nessuno costa un sacco di è una consulenza privata oltretutto discutiamo anche di cose che mi riguardano john de martini una persona che genera due milioni di dollari all'anno di 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 rendita automatica vera sul proprio patrimonio che vi darà entrate nella rana nero 347 no ci rivediamo all'interno di rana nera ciao signori buona vita